Dino Gori La donna, accusata di omicidio volontario, ha sempre sostenuto di essere stata picchiata dal marito e di aver reagito dopo l'ennesima lite. Per la 58enne il PM Claudiane aveva chiesto il rito immediato, la difesa sostenuta dall'avvocato Saverio Agostini ha invece chiesto il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica o in subordine il rito abbreviato secco. Il gruppo Gianni Fruganti ha accordato il rito abbreviato condizionato alla perizia.